Noi ti aiuteremo a tornare a casa E' questo il castello dove tu vivevi? Sì, è questo Cosa? Fermatevi un secondo miei cari Non possedete molte buone maniere Vi insegnerò io una lunga gonna e un lungo cappotto Niente gomiti sul tavolo Masticate con la bocca chiusa Così? Così? Che cosa ci vuole? Parleremo come fai tu E andrà bene, ci faranno entrare vedrai Adesso andiamo Ed entriamo in quel castello Le coordinate che mi hai detto Indicano un posto qui vicino Hai sempre detto che il tuo castello si trova in Germania Mi sono confuso Andiamo a vedere dove si trova questo castello Guardate, ha la forma di un castello Ma qui sembra non esserci decisamente nessuno Sembra un castello abbandonato Il Grinch ha distrutto il castello E ha fatto scappare tutti gli abitanti Risulta abbandonato E in questo stato Da molti, molti anni Ci sta prendendo in giro Bentornati signori Com'è andata? Raccontatemi Com'è andata? Com'è andata? E' andata Tu mi hai andata? Io devo andare in bagno Così? Torno subito Ma anche io devo andare in bagno Devo andare in bagno Proprio Mi scappa la pipì Devo andare in bagno Torno subitissimo Ma non nello stesso bagno In un altro bagno Per fortuna abbiamo due bagni in questa casa Che fortuna Torno subito Tu resta lì Non ti muovi Ok Va bene Via 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 Eric Ehi Eric Ma dove è andato Eric? E' andato davvero in bagno Ma quella del bagno doveva essere solo una scusa Perché è andato davvero in bagno? Eccomi Sono in bagno Ma cosa gli diciamo adesso? Che faccio? Cosa faccio? Ma cosa combina? Cosa? Eric Sono io Sono io Cosa faccio? Cosa faccio? Sono agitato Dominic Perché hai aperto la porta? Sono in bagno Ma non è vero Sei seduto sulla tavoloccia Sapevo che non eri davvero in bagno Ti sentivo far fugliare No insomma Esci da qui Andiamo Chiodi 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 Chiuso Ma tanto lo schiaccianoci non può aprire le porte Ma per sicurezza Buongiorno ragazzi Io sono Edi E io sono Dominic E chi siamo Edi insieme Edi insieme E non sappiamo che cosa fare E' una situazione strana Stiamo cercando di riportare il nostro schiaccianoci parlante Hans Quello lì dentro A casa sua Pensiamo che sia la cosa più giusta da fare Dobbiamo aiutarlo Lui ha sempre detto di vivere in un castello Grandissimo In Germania Ma poi ieri all'improvviso ho detto No 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 Mi sono confuso Abito qui vicino In un castello qui vicino E ci ho persino dato l'indirizzo E allora ci siamo andati Siamo arrivati lì E abbiamo trovato il castello Ma non era proprio come ce l'aspettavamo Era un castello abbandonato E molto molto vecchio Non c'era neanche un'anima viva Ed era molto diverso dalle sue descrizioni C'era il mare al posto della neve Le montagne non c'erano È tutto molto molto strano Capite adesso perché siamo corsi a chiuderci qui dentro e non sappiamo che cosa fare Che cosa sta succedendo e qual è la verità Voi ragazzi lasciate like a questo video se anche voi volete scoprire la verità E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla Quindi abbiamo due possibilità Che cosa? Ma e questi da dove li hai presi? Non fare domande Mi servono per spiegarti meglio Seguitemi Entrambi questi schiaccianoci potrebbero essere Hans Ma solo uno E quello giusto Ciao Sono Hans E sono uno schiaccianoci buono Ma molto fbadato e confuso Pensavo di vivere in Germania E invece vivo in Sicilia E qualcuno Purtroppo qualcuno ha distrutto il mio castello E adesso sono senza castello Perché non c'è più niente in quel castello Poveretto Come farò Povero me Sono così buono Ma anche così sfortunato No questa cosa non mi convince Lascia a me l'altro Hans Ciao Sono Hans E sono uno schiaccianoci Molto cattivo Cosa? Ho mandato Eric e Dominic In un posto abbandonato Per Per Intrappolarli Cosa? Sì Io ho dato l'indirizzo sbagliato E poi E poi Ho un piano malefico Per conquistare il mondo Che cosa? Dominic Ma questa versione di Hans È un po' esagerata Come fai a saperlo? Non sappiamo niente di lui E poi Uno schiaccianoci che parla Già non ti sembra strano ed esagerato Ma dai Mi è sempre stato simpatico A me sembra buono A me Sembra decisamente Troppo strano E ci ha mentito sicuro Dobbiamo assolutamente capire Chi è il vero Hans Secondo voi Chi è il vero Hans? È buono o è cattivo? Ok E quindi cosa facciamo? Andiamo a scoprirlo Vieni con me Seguimi Ma cosa stiamo facendo? Niente Lo osserviamo Lo osserviamo E perché lo osserviamo? Basta fare domande E seguimi Silenziosamente Senza farci notare Ok Andiamo a scoprirlo Ok Entriamo Vieni qua Sì Eccolo lì Lo vedi? Lo vedo Lo vedo L'obiettivo lo vedo Bene Ecco Perfetto Sì Ok E adesso Però Che facciamo? Stiamo qua a guardarlo E basta Così fisso Senza fare niente Non dire niente Ok Ok E quindi Dominic Vedo solamente Uno schiaccianoci di legno Un fermo Immobile Come giusto che sia Abbi pazienza Se ci nasconde qualcosa Come penso Prima o poi Noteremo qualcosa Mi sto annoiando Ma Cosa stiamo facendo? Quanto tempo Dobbiamo stare ancora qui Così Ancora un po' Finchè non scopriamo qualcosa Di quel pezzo di legno Ehi Signori Tutto bene? Dove siete? L'hai sentito? Ci sta cercando Non sembra cattivo Si preoccupa per noi Si preoccupa per noi? Secondo te? Oppure Si sta assicurando Di essere rimasto da solo Per compiere il suo piano malefico Dominic E gli abbiamo detto Che andavamo in bagno Per un attimo E poi è passata un'ora È normale che si preoccupa No? Anche questo è vero Allora continuiamo ad osservare Non mi muoverò da qui Finchè non avrò scoperto qualcosa Che noia Se scoprono che cosa ho fatto Si arrabbieranno molto Eric L'hai sentito? Ha parlato Eccolo Te lo dicevo io Sapevo che non dovevamo fidarci Hai sentito cosa ha detto? Se scoprono cosa ho fatto Si arrabbieranno Parla di noi Ho fatto qualcosa di terribile Ma che cosa dobbiamo scoprire? E per che cosa dobbiamo arrabbiarci? Che facciamo Dominic? È cattivo Non ci sono più dubbi E adesso che lo so Esco e lo affrontiamo Ma sia pericoloso Hans Mio caro Confessa Dicci subito la verità Sei cattivo? Per chi lavori Con chi lavori Dicci subito tutto quanto Ti conviene parlare? Signori eccovi Non capisco le vostre domande A cosa vi riferite? Senti Hans Non fare il finto tondo Il finto tonto Sì perché che ho detto io? Finto tondo Ma no finto tondo rotondo Si dice finto tonto No si dice finto tondo E non mi interrompere Hans Non fare il finto tondo Intende finto tonto Ti abbiamo sentito Hai detto che hai fatto qualcosa di terribile Che noi non dobbiamo scoprire Perché altrimenti ci arrabbiamo Che cosa è? Oh no Mi avete scoperto Esatto Confessa Non puoi più mentirci Schiaccianoci Io non mi aspettavo Che tu potessi mai mentirci Io non volevo farlo Non volevo giungere a questo Ma ormai è capitato Che cosa hai fatto? Noi ci fidavamo di te Ti abbiamo anche aiutato E lì sul pavimento Controllate se è rotto Muovendomi L'ho urtato erroneamente Ed è caduto Sono affranto Cosa? Sul pavimento Un tablet Lo hai fatto cadere? Funziona E tutto ok E quindi E questa la cosa grave Che hai fatto? Hai fatto cadere il tablet? Sapessi quante volte è caduto a me? Sono tremendamente dispiaciuto Vi chiedo venia Perdonatemi E quindi non sei cattivo? No 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 Aspettate un momento C'è un'altra cosa Tu ci hai mentito su qualcos'altro Ci hai dato l'indirizzo sbagliato L'indirizzo del castello Non avete trovato il mio castello? No ecco Lo abbiamo trovato Però era strano Era molto vecchio Abbandonato E c'era il mare Strano no? Confessa Quella non è casa tua Il mare? Oh no Non è casa mia Forse mi sono confuso Forse ho sbagliato Ti sei confuso? Di nuovo? Può succedere Io mi confondo spessissimo Mi dispiace Ho proprio una testa di legno Dovremmo cercare ancora Ok Hans Ok Va bene Grazie per i chiarimenti Era giusto per chiederti Non preoccuparti Secondo te Non si sta confondendo un po' troppo? Ma ha una testa di legno Ho capito Ma secondo me ci sta mentendo E secondo voi ragazzi Dovremmo fidarci oppure no? Gli dobbiamo credere E che cosa facciamo? Dobbiamo cercare ancora Insieme 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 Insieme